C'era una volta a San Marino nel 2006, era veramente un paese fantastico. Stavamo bene! Però ricordiamoci cos'era San Marino in quegli anni, perché a volte siamo un po' smemorati. Le banche, che godevano di un segreto bancario impenetrabile, vontavano di soldi. Cosa? E pensavano bene di impiegarli senza garanzia agli amici degli amici o per gonfiare il mercato immobiliare. I politici vendevano le licenze, c'era proprio un tarifario. Delicatissimi. Che poi abbiamo scoperto nelle carte del conto Mazzini, erano tutte tangenti. Un cittadino voleva sbloccare un lotto, andava dal politico, bastava garantirgli il voto e il lotto veniva sbloccato. Ma i coglioni! Questo ha portato tutta la speculazione sul territorio di quegli anni passati. Il bilancio dello Stato vontava di denari, perché le banche potevano garantire entrate senza sosta. Come li impiegavano i politici quelle entrate? Uno dice che li impiegavano per fare investimenti, per far crescere il paese, per creare infrastrutture. In che senso? No, niente di tutto questo. Li impiegavano per ingrossare la pubblica amministrazione, quindi per assumere gli amici degli amici e garantirsi i voti. In casa mia faccio grosso, c'è che mi pare? Oggi quella stessa pubblica amministrazione che non riusciamo più a sostenere, oggi che le entrate sono meno di un tempo. Chi c'era il governo in quel periodo, quando succedeva tutto questo, quando c'erano anche le società anonime che garantivano a chi voleva aprire un'impresa qui, di farlo in maniera totalmente sconosciuta al fisco italiano? C'era la democrazia cristiana e il partito socialista. Quegli stessi partiti che oggi ci fanno la morale e che incredibilmente Rete, che dovrebbe essere in totale antitesi a quei partiti, vuole riportare al governo. Stavamo bene! Tra il 2008 e il 2012 questo sistema crea una tale reazione nei nostri partner, in particolare l'Italia, che ci passa sopra un treno. Che figura di... Arrestati i vertici di alcune delle principali banche sanmarinesi. Procedura rafforzata in Moneval, quindi diventiamo paese non affidabile sul fronte antiriciclaggio. Blacklist italiana, quindi embargo per le nostre imprese in possibilità di lavorare con l'Italia. Scudo fiscale che ci porta via quasi un terzo della raccolta in pochissimi mesi. E in più tutta una serie di leggi, rincorse che abbiamo dovuto fare in un momento in cui c'era una crisi economica. Oltretutto estremamente pesante a livello internazionale. La stragrande maggioranza dei problemi che viviamo oggi deriva da quegli anni lì. Da quel sistema distorto e dalle reazioni che quel sistema ha provocato nei nostri partner, in primis l'Italia. Quei politici che vogliono dirvi che si può tornare a quei momenti quando stavamo bene, o mentono, quindi vi stanno prendendo in giro, o peggio, sono interessati a far ritornare un sistema truffaldino e completamente, ripeto, insostenibile. E' incredibile, lo dico ancora, che ci siano dei movimenti che dovrebbero essere in alternativa a quel sistema, che sono nati per scardinarlo, che stanno riportando l'ADC e i socialisti al governo per fare la stessa cosa. L'unica alternativa è Repubblica Futura, che ha lottato negli anni per garantire un sistema più trasparente, più competitivo e più sostenibile, anche negli anni difficili della crisi economica e anche negli ultimi tre anni. Tutti gli altri vogliono riportarlo al passato, quindi bisogna votare con convinzione Repubblica Futura. Repubblica Futura